Mi ha fatto molto piacere essere invitato, anche perché, come diceva giustamente, ci sono parecchi amici che ho incontrato in varie esperienze precedenti qui ad ascoltarmi oggi. Un primo punto mi è stato chiesto di fare un po' un quadro sul mercato francese italiano e quindi partirei da dire che sono comunque i due mercati più importanti in Europa. L'Italia in particolare ha avuto uno sviluppo negli ultimi dieci anni più importante di quello della Francia con circa un punto di crescita aggregata incrementale, quindi del 6% nel periodo che andava fino al pre-crisi, contro un 5% della Francia, che ha portato l'Italia, il rapporto Italia-Francia, la Francia rappresentava circa il 90% dell'Italia come valore, nel 2009 la Francia rappresenta il 75% dell'Italia come valore nell'alto di gamma. La reazione alla crisi in compenso è stata diversa, nel senso che la Francia ha subito la crisi in modo leggermente meno importante di quanto non l'abbia subito l'Italia. Parliamo di uno 0% nel 2008 e un meno 7% nel 2009 contro l'Italia al meno 4% nel 2008 e meno 9% nel 2009, con però un'uscita della crisi che ha l'aria di riconfermare i trend precedenti di un più 4% per l'Italia e più 3% per la Francia. Adesso questi sono dati che rischiano di cambiare giustamente con la fine dell'anno. Let me assure you of one thing. Mi sta ascoltando. Adesso, tornando a quella che è la nostra visione diretta, cioè quella dei department stores, contrariamente a quello che succede nel mondo, in Italia e in Francia i department stores hanno reagito piuttosto meglio che non il resto del mercato. Nel nostro caso, noi in Italia nel 2009 abbiamo avuto un calo di vendita dell'ordine del 3,5% contro un 9% e in Francia dello 0% contro un meno 7%. In compenso, il 2010 si annuncia piuttosto buono. In Italia prevediamo una crescita attorno all'11% e in Francia attorno al 15%. Quindi direi che i trend si ristabiliscono molto. Adesso questi trend sono fatti da una differenza molto grande tra quello che è, o che è in gergo, di department store noi chiamiamo i flagship, quindi i negozi principali nelle città, nelle capitali e il resto della rete, quindi che si indirizza a un mercato molto più locale. Quindi i flagship hanno resistito meglio durante la crisi e stanno approfittando anche dei trend legati al turismo, che evidentemente sono molto più significativi nelle capitali. E per dare un'idea, in questo momento a Parigi noi stiamo crescendo del 29% nel nostro flagship di Parigi, con un lusso che è in crescita di quasi il 200%, quindi un raddoppio rispetto all'anno scorso, e una crescita della clientela internazionale del 180%, quindi portando alla percentuale di vendite a stranieri dal 23% dell'anno scorso a quasi il 33% quest'anno. Quindi direi una crescita alimentata molto fortemente dalla fascia più alta dell'alto di gamma e dal turismo internazionale. A questo bisogna però, per avere una lettura corretta dei dati, includere il fatto che noi abbiamo appena finito una grande trasformazione del nostro negozio francese, e quindi esiste un effetto che non è un perimetro completamente comparabile rispetto all'anno scorso, ma che in ogni caso ci porta ben al di là delle nostre aspettative. Per il 2011, come vediamo le cose? Allora, io ho qualche dubbio. Allora, nei mercati locali temo che in Francia esisterà un effetto di riduzione della spesa pubblica, che rischia di essere più importante ancora di quello italiano, nel senso che nel momento della crisi in Francia c'è stato uno sviluppo e uno stimolo dell'economia che è stato molto forte, con uno Stato che riteneva di avere dei margini di manovra più importanti, adesso quello che si annuncia non è incoraggiante per il consumo locale. In compenso, a livello dello sviluppo turistico, i trend hanno l'aria di consolidarsi, salvo il problema o quello che può nascere da una crescita del dollaro che possa rallentare un attimo questo trend, resta comunque un elemento forte. Se uno guarda i trend sul lungo termine, direi che per noi quello che è importante, ci sono tre punti, tre trend che secondo me sono fondamentali, da una parte, come abbiamo già detto, il trend sul lungo termine relativo al turismo, la riabilitazione dei centri città, quindi la rinascita dei centri città, sia in Francia che in Italia, con le conseguenze sul commercio di centro città, e evidentemente l'avvento di internet. Questo crea delle strategie diverse, tornando al gergo interno, attraverso le strategie che noi applicheremo ai nostri flagship e alla rete. Per i flagship direi che la componente turistica sta rendendo la competizione internazionale sempre più forte, quindi fino a pochi anni fa, quando ci si incontrava tra Department Store, con Bertansky o con altri, era una compagnia piuttosto allegra e aperta di scambio di informazioni, oggi un po' meno perché la competizione comincia a esserci sul cliente internazionale a tutti i livelli e quindi gli scambi di informazioni diventano diciamo meno, più asettici, e in particolare gli scambi di informazioni sulle tattiche e le strategie che i Department Store stanno adottando per conquistare il cliente internazionale diventano un segreto ben tenuto. A livello della rete, quindi le altre città con un orientamento molto più locale, direi che quello che sta succedendo è diverso in Italia e in Francia. In Italia esiste un indebolimento della catena tradizionale, del retailer multimarca tradizionale che è stata direi accentuata dalla crisi recente, sono aziende in generale piccole, non molto solide finanziariamente con dei problemi di cambiamento generazionale importanti e quindi si sta creando un'opportunità in Italia per una nuova gestione di Department Store di livello più alto come lo è stato già nelle capitali, che però si deve accompagnare da un rinnovo di questi negozi in modo importante e da un servizio, i clienti nelle città italiane sono stati abituati da questi dettaglianti a un livello di servizio molto più alto di quello che era abitualmente dato nei Department Store. Quindi l'elemento di servizio, un po' come nei flagship per la clientele internazionale, resterà un punto fondamentale per noi a livello generale. A questo punto, su internet, oggi i Department Store europei sono molto più indietro di quelli americani, io ritengo che questo sia parte dell'esperienza e del rapporto con il cliente perché il Department Store in qualche modo è sempre stato il portale antelitteram, quindi era il posto dove la gente andava a cercare tutti i prodotti, lo può rimanere nel mondo virtuale, è importante però che ci sia una saldatura tra questo mondo virtuale e il mondo reale, che quindi lo sviluppo di internet in partenariato con i marchi che ci accompagnano diventi un'estensione del servizio al cliente che noi possiamo dare. Se riusciamo a fare tutto questo e farlo bene, direi che il futuro per noi e per le marche che noi rappresentiamo sembra piuttosto buono se guardiamo dieci anni avanti.